La Befana della Solidarietà arriva in pediatria all'ospedale Moscati di Avellino, la visita dei cavalieri crociati di Malta e dei vigili del fuoco ai piccoli degenti per strappargli un sorriso, una gioia, nel giorno tradizionalmente dedicato a loro, ai bambini. Tante calze con dentro giochi e caramelle per un appuntamento che si rinnova ormai da anni, anche un panettone consegnato al personale medico. Per noi è un momento di manifestare in modo concreto la nostra presenza nel sociale, come lo facciamo? Portando il nostro saluto, un piccolo giochino ai bambini. È il quinto anno questo in cui ci presentiamo qui all'ospedale Moscati, però ecco questi sono i momenti in cui noi dobbiamo stringerci ai nostri amici, ai nostri compagni più piccoli per portare loro un piccolo segnale di gioia. Ad accogliere i cavalieri crociati e i vigili del fuoco il direttore generale dell'azienda Moscati, Giuseppe Rosato. La pediatria è un momento di forte interesse per la nostra azienda, con la scuola, con i professori che vengono per seguire questi bambini che sono ancora ricoverati. La possibilità di poter avere il teatro, la musica, i libri, la biblioteca. È tutto un modo per rendere quando più possibile il ricovero meno drammatico. Avere questo tipo di discorso di interesse, i regali, un po' di movimento, eccetera, sicuramente fa piacere. Fa piacere la struttura, fa piacere ai bambini, fa piacere al personale e a tutti.